Ciao ciao a tutti, siamo alla domenica sera, metto subito online il video così almeno mi dite subito quello che pensate di questo argomento. Oggi domenica, giornata meravigliosa qui tra le Orobie nel Bergamasco e purtroppo è me con le restrizioni che tutti conosciamo essendo in zona arancione. Purtroppo abbiamo visto in particolare perché da casa mia dal mio balcone vedo poco distante c'è un parco pubblico molto bello peraltro pieno di ragazzi ma non solo anche di mamme, di bambini, di genitori, i ragazzi soprattutto vicini che si passavano la sigaretta l'uno con l'altro quindi senza mascherina, un via vai di gente nel passaggio pedonale che c'è proprio appunto fuori casa mia e abbiamo potuto assistere, ho potuto assistere e leggere in Facebook di tutto e di più. Io non so se anche da voi ci sono i gruppi Facebook del paese o della città che di solito si chiamano sei di Bergamo se sei di Varese se sei di Genova se anche tu o noi di Palermo ecco insomma sono dei gruppi così dove tutti i cittadini si sentono autorizzati a esprimere a dichiarare qualsiasi cosa. Tante volte sono utili perché riportano magari informazioni o segnalazioni che sono utili per tutta la cittadinanza ma a volte veramente ti cadono le braccia fino per terra e in questa particolare situazione come dicevo prima certe persone hanno dato il meglio di sé nel gruppo del mio paese. Allora chi si lamenta giustamente peraltro appunto degli assembramenti che si sono visti in giro per le strade. È un momento terribile quello che stiamo vivendo qui. Da noi a Bergamo ancora ancora non male anche se siamo in peggioramento anche noi ma nella vicina Brescia ad esempio anche oggi ci sono stati 1200 contagi. È assurdo. Vabbè quindi quelli che si lamentano appunto di aver notato dagli assembramenti sia per le vie che nei parchi. Per contro ci sono quelli che invece dicono ecco tutti a fare gli sceriffi dai balconi a controllare quelli che si prendono una sana boccata d'aria. Poi i toni crescono. Un post che parte sì magari con una segnalazione un po' un po' piccata e si parte con un dibattito che a volte raggiunge dei toni veramente pesanti di insulti addirittura. Ma io mi dico magari in una grande città non sai chi è quello che scrive ma in un paese come il mio di nemmeno 9000 abitanti. Ci si conosce tutti. La persona a cui è risposto malissimo in Facebook oggi magari te la ritrovi davanti domani e cosa fai? Io penso che a volte i social veramente non voglio arrivare agli esempi di bullismo e di stalkeraggio che purtroppo si sono verificati però anche così uno non può stare tranquillo neanche in un piccolo paese oggi in particolare abbiamo assistito abbiamo letto delle battute veramente infelicissime io non so se anche da voi così però io ecco sono al di là della situazione che è quella che è che è già pesante di suo ma anche queste guerre tra vicini veramente lasciano un po' di amare in bocca. E niente con questa riflessione vi auguro una buona notte vi abbraccio un bacione e un abbraccio un sorriso ciao